Detto ai nostri microfoni, proprio il portiere dell'Inter, Francesca Durante. Allora, hai iniziato questa stagione qui, una stagione importante per te, hai tratto subito una buona continuità, la squadra invece ha avuto un piccolo momento d'arresto, poi la vittoria con la Roma sicuramente è importante. Vi ha già dato la misura di quello che siete o oggi è il test definitivo, diciamo? Ma non è un test, è una partita importante, sappiamo che giochiamo contro una squadra di altissimo livello e dovremo dimostrare a livello di prestazione di fare un passo in avanti, ecco, questo è importante.